Quando si tratta del giorno in cui si riceve lo stipendio, è difficile sapere cosa fare con i propri soldi per cercare di gestirli nel modo più efficiente. Infatti, solitamente li ricevi e prima che tu te ne accorga, il tuo conto in banca è di nuovo a zero. In questo video però voglio proporti 6 trucchi che ti permetteranno di utilizzare nel modo più proficuo il tuo denaro non appena ricevi qualsiasi tipo di pagamento. Nel nostro paese il tasso di povertà è abbastanza alto e questo a causa di molti fattori diversi e difficili da gestire, ma se hai uno stipendio nella media puoi sicuramente agire tu stesso per evitare di arrivare alla fine del mese senza nemmeno un euro risparmiato ed ora vedremo passo dopo passo come fare. Ma prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e a mettere un mi piace al video per sostenermi. La prima cosa che devi sicuramente fare è conoscere in modo effettivo la tua situazione economica. Infatti esiste una cosa chiamata effetto struzzo che è un bias cognitivo che porta le persone ad evitare qualsiasi informazione che possa farle sentire un po' a disagio e molte persone preferirebbero comportarsi come se quell'informazione non esistesse. Questo è forse il motivo per cui preferisci non controllare il tuo conto in banca dopo una grande uscita serale o evitare di guardare e affrontare il tuo debito. Ma questa idea di nascondere la testa nella sabbia quando si tratta delle tue finanze è una grande parte del motivo per cui una buona fetta degli italiani vive esclusivamente stipendio dopo stipendio. Fortunatamente però la soluzione esiste e non è così difficile come la gente crede. Basta seguire alcuni semplici passaggi. Inizia calcolando esattamente quanto spendi per alloggio, generi alimentari, trasporti, assicurazioni e tutte le altre spese che costituiscono le tue spese vitali per il mese successivo valutando anche quanto ammonta il tuo reddito netto mensile. Puoi farlo nel modo che preferisci ma ti consiglio vivamente di annotare il tutto su un quaderno o sul computer sfruttando delle tabelle per aiutarti. La somma di denaro che devi spendere ogni mese per i servizi fondamentali che sei abituato ad utilizzare non dovrebbe mai superare il 60% del tuo reddito mensile ma se così non fosse prova a cercare fra le varie voci elencate prima delle spese da poter eliminare o quantomeno ridurre. Per esempio potresti cambiare la tua auto per una usata che consuma meno ed è più economica da gestire oppure cambiare scheda telefonica per risparmiare qualche decina di euro ogni mese. In ogni caso se non sai proprio come fare per risparmiare sul tuo stile di vita senza privarti di ogni cosa che ti piace ho fatto un video che potrebbe interessarti e ti lascerò il link in descrizione. Dopo aver fatto questo possiamo passare al punto numero 2, il fondo di emergenza specifico. Essere bravi con i soldi comporta due cose. La prima è capire i concetti di base della matematica. La seconda è spesso trascurata, riguarda invece il capire l'aspetto psicologico che ci porta a compiere alcune scelte. A volte anche se i numeri suggeriscono una scelta, la scelta migliore potrebbe essere quella che ti fa sentire più a tuo agio. Prova ad immaginare il tuo comfort psicologico di sapere che anche se la tua auto si rompe, se il tuo bowler smette di funzionare o se hai bisogno di cure urgenti tutto verrà risolto senza che tu debba indebitarti. Questo è il beneficio di un fondo di emergenza specifico che devi assolutamente costruire nel modo più rapido possibile in modo da non essere più condizionato nelle tue scelte future. Un fondo di emergenza specifico al contrario di un fondo di emergenza classico non dovresti crearlo semplicemente mettendo da parte un po' di soldi perché il tutto dipende dalla tua situazione e dalle tue spese. Ogni oggetto che possediamo ha un prezzo di acquisto differente e di conseguenza anche dei prezzi di riparazione differenti ed ognuno dovrebbe cercare di prevedere le potenziali spese che potrebbero verificarsi in caso di diversi problemi. Ovviamente non dovrete perdere delle giornate per capire esattamente la cifra esatta che spenderete per riparare l'auto in caso di un guasto semplicemente dovrete rendervi conto del range di denaro di cui potreste avere bisogno per ogni singolo oggetto o servizio che utilizzate e che reputate indispensabile. Ora però passiamo invece all'approccio più matematicamente sensato che ci porta direttamente al punto numero 3. Cosa c'è di meglio che comprare qualcosa ora e non doverla pagare mesi o anni dopo? Sono sicuro che alcuni di voi pensano la stessa cosa ma purtroppo non è così per la maggior parte delle persone. Infatti usiamo il debito per comprare tutto dai vestiti ai regali fino anche ai telefoni. Molte persone tante volte si lasciano ingannare ad alcune promozioni che ti permettono di acquistare oggetti costosissimi pagando delle rate mensili. Questo potrebbe sembrare vantaggioso ma in realtà non lo è perché come è ovvio che sia vengono applicati degli interessi che vanno ad aumentare il prezzo del bene in questione. Il punto è che se non ti puoi permettere di pagare 1000 euro per un telefono allora non dovresti nemmeno acquistarlo a rate anche se questo potrebbe darti l'illusione di pagare poco. Questo punto è estremamente fondamentale da comprendere perché vi permette di farvi abituare ad un certo tipo di ragionamenti che vi faranno gestire al meglio le vostre finanze. Ma cosa puoi fare se per esempio hai molte rate da pagare o dei debiti che devi saldare? Molto semplicemente usa i tuoi risparmi per pagare il tuo debito. Nel 99% dei casi infatti i debiti che devi affrontare hanno dei tassi di interesse superiori a quelli che potresti ricevere con i tuoi risparmi e di conseguenza la scelta più corretta da fare è quella di utilizzare i tuoi risparmi per eliminare definitivamente il tuo debito. Ma cerchiamo di essere più pratici e capire qual è il metodo migliore per poter eliminare i nostri debiti. Infatti esistono due metodi principali per farlo. Il metodo della palla di neve o il metodo della valanga. Il metodo della palla di neve è il percorso psicologicamente ottimale. In poche parole significa pagare il più piccolo dei tuoi prestiti il più rapidamente possibile e una volta che questo debito è pagato passare a quello successivo e così via. L'idea è che una volta che vedi che sei in grado di pagare un prestito e riesci ad eliminarlo hai la motivazione per continuare a farlo. Ma ci sono momenti in cui questo non ha senso. Per esempio quando i debiti più piccoli sono estremamente insignificanti di fronte a quelli maggiori. Ed è qui che entra in gioco il metodo della valanga. Questo si concentra invece sul pagare il debito con il tasso di interesse più alto per primo. Una volta pagato il debito con l'interesse più alto, continua ripagando il prossimo debito con il tasso di interesse più alto tra quelli rimasti e così via finché non hai finito. Così facendo, ogni volta che finirai di pagare un debito, la tua situazione economica aumenterà in modo esponenziale, dandoti la possibilità di uscire dai debiti nel modo più rapido possibile. Punto numero 4. Usa i tuoi risparmi per la tua crescita personale. Devi sapere che a seconda di quanto stai risparmiando e di dove ti trovi, gli interessi attraverso i tuoi risparmi possono anche essere tassati. Ciò rende più giustificato l'uso di risparmi extra per continuare ad investire su voi stessi piuttosto che nei mercati, specialmente se si tratta di piccole cifre. Il mio consiglio personale è quello di investire piccole cifre nei mercati solamente per imparare, ma senza avere la convinzione di diventare ricchi. Piuttosto investite sulle vostre abilità, le vostre conoscenze e la vostra salute in modo da diventare ogni giorno delle persone migliori in qualsiasi settore. Una volta che sarei arrivato fino a questo punto, avrai già superato la media delle persone per ciò che riguarda la gestione del proprio denaro ed avrai un po' più di libertà per fare ciò che preferisci. Però, ora passiamo al punto numero 5. So che questo punto non c'entra molto con la gestione del denaro, però è anch'esso fondamentale e non può essere tralasciato. Detto questo, non voglio che prendiate questo consiglio alla lettera. Molte persone amano il loro lavoro e guadagnano abbastanza per potersi ritenere soddisfatte di ciò che fanno e del loro stile di vita. Ma se tu non rientri in questa categoria di persone, ricordati che il lavoro non si sceglie solo una volta e poi deve essere mantenuto per sempre. Esistono moltissime possibilità tra cui decidere, anche se essenzialmente sembra sempre che non sia così. Infatti potresti cambiare semplicemente azienda e svolgere lo stesso lavoro che hai svolto fino ad oggi, ma con un compenso maggiore o con più ore libere. Oppure cambiare completamente professione per cercare di fare qualcosa che veramente ti rende felice. In più, se ti consideri abbastanza bravo nello svolgere il tuo mestiere, potresti chiedere una menta al tuo capo o decidere di svolgere la tua attività in proprio. Non devi fossilizzarti sul tuo lavoro solo perché sai che è sicuro e non devi mai smettere di guardarti attorno per provare a trovare soluzioni migliori e che si addicano al tuo stile di vita ideale. Punto numero 6. Utilizza più conti bancari. Fortunatamente ad oggi abbiamo la possibilità di poter utilizzare tanti strumenti gratuiti per poter suddividere al meglio le nostre finanze. Ma per quale motivo dovresti farlo? È molto semplice, il nostro istinto ci porta a compiere scelte irrazionali solamente perché vediamo che abbiamo ancora molte risorse da poter utilizzare. Quindi suddividere il nostro denaro in diversi conti adibiti ovviamente a diverse tipologie di spese sarà indispensabile per cercare di limitare i danni. Se ci pensi bene, sarai molto meno propenso a prelevare o spendere 10 euro da un conto che ne contiene 100 piuttosto che da uno che ne tiene 2000. Ovviamente questo è un caso estremo semplicemente per farvi capire come funziona la nostra mente quando si tratta dell'utilizzo del denaro. Ma volendo essere un po' più pratici, vi basterà creare dei conti suddivisi per ogni spesa che affronterete con regolarità in modo da capire effettivamente quanto state spendendo e per quale ragione. Potrebbe sembrarvi insensato, ma bisogna ricordarsi che l'uomo non è un essere razionale al 100% e da maggior ragione è quando si tratta di utilizzare denaro. Quindi sfruttate la possibilità di aprire dei conti gratuiti per salvaguardare le vostre finanze. E sono sicuro che non ve ne pentirete. Punto bonus. Automatizza lo spostamento del denaro. Questo punto, come potrete aver intuito, è strettamente collegato a quello precedente. Infatti ogni volta che si riceve lo stipendio e lo si vuole suddividere fra risparmi, spese fondamentali, divertimento e così via, è fondamentale, come dicevo poco fa, avere diversi conti adibiti ad ognuna di queste funzioni. Ma comprendo che sia fastidioso e praticamente infattibile fare ogni mese quest'operazione in modo manuale. Però, fortunatamente, non dovete farlo. Infatti esistono dei conti e delle carte ad essi correlati che vi permettono di inviare periodicamente dei bonifici ad altri conti di cui siete proprietari, in modo da suddividere in modo automatico il vostro stipendio e creando dei budget molto accurati a cui potete attingere per le vostre spese. Automatizzando questo processo sarà molto più semplice per voi sapere quanti soldi spendere e dallo stesso tempo avrete una cosa in meno a cui dover pensare ogni mese. Infatti è di vitale importanza che la gestione delle vostre risorse economiche sia la più semplice e funzionale in assoluto, perché non deve portarvi ad avere stress, ma al contrario dovrebbe far sì che la vostra vita sia semplificata e la più tranquilla possibile. Spero che questo video ti sia stato utile e ti invito a lasciare un commento per farmi sapere come tu gestisci le tue risorse economiche. Se sei arrivato fino a questo punto del video ti invito a dare un'occhiata al video che ti sta comparendo in questo momento in sovraimpressione, perché sono sicuro che sarà di tuo interesse. Grazie per la visione!